Un insolito ballottaggio quello di Valdagno, il sindaco uscente Alberto Neri, Partito Democratico Italia dei Valori, si ferma al 38,2% di preferenze. Se la dovrà vedere a sorpresa con Lorenzo Bosetti, storico sindaco di Valdagno tra gli anni 80 e 90, predecessore dello stesso Neri e suo assessore in giunta, rappresentante ora di una serie di liste indipendenti che insieme hanno guadagnato un sonoro 24%, tagliando fuori di netto i candidati di PDL e Lega presenti a questa tornata amministrativa separatamente. È un buon risultato visto nel contesto politico, adesso bisogna lavorare guardando avanti, adesso naturalmente quello che per noi è prioritario è riuscire a portare il nostro programma alla città. Qui conta da adesso in poi il programma, noi vogliamo realizzare il nostro programma e la persona, le persone. Siamo arrivati quasi al 40% dei consensi dei cittadini, vuol dire che l'attività di questi cinque anni è stata molto apprezzata. Io sono convinto che anche il risultato del ballottaggio non sconvolgerà il consenso che abbiamo avuto proprio dai risultati di ieri. Ora diventa fondamentale capire come si giostreranno le alleanze pre-ballottaggio nei confronti delle quali due candidati hanno idee ben precise. Prima di tutto farò una strategia che mi lega ancora di più alla gente, parlerò moltissimo con le persone. Io credo che non possono essere sconvolti da accordi politici i sentire della gente. La gente si è espressa e quindi credo che cercherò sempre di più di avere il consenso degli elettori e della popolazione dei vallagnesi. Adesso apriamo il dialogo con tutte le forze che sono presenti sullo scenario, sono facili da intuire, sono prevalentemente quelle del centro-destra. Apriremo il dialogo con tutti e valuteremo le condizioni di governabilità e di convergenza sui programmi. Insomma da Valdagno la lezione politica più importante non l'hanno imparata i candidati sindaci, ma i candidati che hanno perso PDL e Lega Nord che presentandosi disuniti hanno sostanzialmente mancato la poltrona più importante.